Siamo con Alice Vitiello, Assessore al Turismo del Comune di Larino. Ci troviamo all'interno del Palazzo Ducale, scrigno di storia, arte e cultura. Da qualche giorno c'è la possibilità di visitare anche una mostra dedicata al Carnevale larinese, punto di riferimento per le manifestazioni che si svolgono a Larino nel corso dell'anno. Sì, da oggi in realtà è possibile visitare il Museo del Carnevale di Larino. C'è un'esposizione principalmente per adesso di foto e video relativi alla manifestazione scorsa del Carnevale 2019, ma è possibile trovare anche alcune immagini dei Carnevali delle edizioni passate. Per voi cosa rappresenta questo evento? Per noi è importante, in considerazione anche del riconoscimento che abbiamo ottenuto l'anno scorso dal Ministero per i beni e le attività culturali, non mi stancherò mai di ripeterle, è una grande soddisfazione che abbiamo avuto come amministrazione comunale, ma soprattutto che hanno avuto i ragazzi che fanno parte dei gruppi costruttori, che sono già all'opera e hanno già iniziato a realizzare i carri per l'edizione 2020. A loro rivolgiamo sicuramente un in bocca al lupo per un lavoro che rappresenta davvero una forma d'arte riconosciuta dunque a livello nazionale. All'interno di questa mostra è previsto anche un museo virtuale? Sì, nel progetto che abbiamo presentato e che poi è stato finanziato dal Ministero abbiamo previsto proprio l'allestimento di un museo virtuale del Carnevale dove attraverso dei visori sarà possibile rivivere tutte le edizioni passate dei Carnevali che quest'anno siamo alla 45esima edizione e anche le ricostruzioni artistiche in 3D dei Carri Allegorici.